Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è giovedì 17 marzo 2022, un giorno in cui bisogna festeggiare, bisogna festeggiare perché la notizia che Pesaro è stata dichiarata capitale italiana della cultura vantaggia tutto il territorio, non solo appunto la città capoluogo ma tutto il territorio provinciale perché con la collaborazione di 50 comuni del nostro territorio Pesaro è riuscita a imporre la sua candidatura. Il lapsus non è casuale, Fano in passato ha fallito questo risultato pur avendo un progetto sostanzialmente valido e ora però fa parte di questo progetto pesarese che valorizza tutto il territorio, lo vedremo poi evidenziato con grande rilevanza sui quotidiani questa mattina e intanto cominciamo ad iniziare la nostra giornata con il santo del giorno. Oggi vediamo che si festeggia San Patrizio, San Patrizio patrono d'Irlanda, compì un'intensa opera pastorale tesa alla conversione delle popolazioni barbare, si distinse per il distacco dalle cose terrene, soffrì il carcere e molte persecuzioni ma la sua vita dedita all'aiuto agli altri fu molto proficua in termini di conversioni. Vediamo anche le previsioni del tempo, vediamo che oggi il tempo è cambiato rispetto ai giorni scorsi, il cielo si è fatto prevalentemente offuscato a causa del transito di lubi alte, le massime temperature raggiungeranno i 14-15 gradi quindi non è freddo questa mattina, i venti ispireranno da una tensione moderata da nord-est nel pomeriggio, sulle coste deboli da est-sud-est all'interno da una direzione prevalentemente da est, le temperature però sono in calo. E apriamo dunque il Corriere Adriatico questa mattina sulla pagina di Fano dove vediamo che la notizia più importante è data dall'incontro che c'è stato ieri in provincia per quanto riguarda il problema dell'ex Carducci, uno stabile da demolire, da ricostruire perché è dichiarato inagibile. Ex Carducci, stanziati 10 milioni, siamo pronti a partire spediti le rassicurazioni del Presidente della provincia Paolini. I fondi statali si attendono per aprile, sono 5 milioni che lo Stato dovrebbe appunto mettere a disposizione per la ricostruzione, per la demolizione, ricostruzione di questo edificio. E poi ci sono 2 milioni iniziali stanziati dalla provincia a cui sono stati aggiunti di 960 mila euro che fanno somma con il milione e 750 mila euro del gestore dei servizi elettrici, il GSE. Quindi con i 5 milioni dell'atteso finanziamento statale siamo a oltre 9 milioni di euro e la cifra è ritenuta sufficiente per attuare il progetto, per attuare la demolizione e la ricostruzione di questo edificio. Soddisfatto il dirigente del liceo Nolfi, il Preside Giombi, che ha definito utile l'incontro. Ora ci sono i fondi, ha dichiarato e sono necessari i lavori per cominciare al più presto. Qualcosa dovrebbe muoversi in aprile quando poi verranno messi effettivamente a disposizione questi 5 milioni da parte dello Stato. Danno fuoco alla recinzione del cantiere Arzilla, un atto vandalico, ovviamente un segno di protesta per il progetto che l'amministrazione comunale intende svolgere su questa pista ciclabile di carattere naturalistico che gli ambientalisti vogliono difendere a tutti i costi, ma ovviamente non si può attribuire a loro quanto è accaduto. È stata la mano di un ignoto che ha piccato il fuoco. Per fortuna questo ha divorato soltanto la plastica della recinzione e non si è propagato alle sterpaglie perché altrimenti sarebbe stato un incendio di notevoli proporzioni. Il fuoco, ha affermato il consigliere comunale Enrico Fumante, che abita in zona, si è sviluppato intorno alle 18.30 e se fosse successo nel cuore dell'estate, quando la vegetazione è secca, le fiamme sarebbero ben presto arrivate a minacciare sia le piante lungo il torrente Arzilla, sia gli edifici che sorgono a poche decine di metri. Quindi un atto veramente pericoloso, un atto criminale. Mascarin scrive a Gambini e Paolini. L'assessore alle aziende partecipate del comune di Fano, Samuele Mascarin, scrive al sindaco di Urbino Gambini e al presidente della provincia Giuseppe Paolini. Fano ha detto no all'aggregazione di Aset a Marche Multiservizi. Ebbene, questa è una risposta chiara e tonda al sindaco di Urbino che, rivolgendosi a tutti i suoi colleghi della provincia, due settimane fa si era lamentato delle disinteresse suscitato dalla proposta di aggregazione di Aset avanzata da Marche Multiservizi, che secondo il sindaco Gambini era da prendere in considerazione. Ma l'intervento del sindaco di Urbino e l'iniziativa poi di Paolini, che insomma ha supportato questo intervento, hanno suscitato la reazione dell'assessore alle società appunto partecipate di Fano, Samuele Mascarin, e ha detto chiara e tondo la proposta di Marche Multiservizi di inglobare, di associarsi, insomma di collaborare con Aset è stata formalmente respinta dal Consiglio Comunale di Fano. Quindi non c'è più da discutere su questo punto. Per l'ennesima volta il Consiglio Comunale di Fano ha detto no, l'Aset rimane una entità autonoma, pubblica, che deve poter gestirsi autonomamente senza essere inglobata dall'azienda magari più grande dove c'è Era, che è una componente privata all'interno della componente pubblica. In fondo pagina abbiamo un appello, è l'edicolante di Via Roma che deve trasferire tutta la sua edicola perché lì ci deve nascere una pista ciclabile, si tratta di Frank Mattioli, un edicolante che come tutti gli edicolanti insomma in questo periodo non è che se la passano molto bene, un po' per la pandemia, un po' per il costo della vita, insomma giornali non è che si comprano più come una volta, poi c'è l'intervento dei mass media. Insomma veramente noi invece sponsorizziamo l'acquisto dei giornali perché la carta stampata rimane sempre una testimonianza di quello che accade tutti i giorni. Ebbene l'edicolante Frank Mattioli chiede un aiuto da parte del Comune per sostenere le spese del trasferimento della sua edicola. Lui al momento non ha la possibilità e se un aiuto non interviene Fano perderà una nuova rivendita dei giornali dopo quelle che ha perdute in passato. A Villa San Biagio l'orrore della guerra rimane nel cuore dei profughi ucraini. Villa San Biagio è un'osi di serenità, di pace e di armonia nel territorio fanese. Tuttavia lì vengono ospitati i profughi che in questi giorni sono giunti dall'Ucraina, i quali hanno la morte nel cuore. Hanno la morte nel cuore perché vedono ogni giorno tramite i mass media i bombardamenti, le bombe, la guerra che devasta il proprio paese. Si tratta di 22 ospiti che vengono ospitati appunto dall'Istituto Don Orione, donne, bambini, nonni. Qualcuno già pensa di tornare in patria, vuole tornare in patria perché dopo essere scappato vedendo quello che sta accadendo vuole andare a soccorrere chi ha lasciato in quel territorio ma ovviamente viene trattenuto. È apparso subito un forte contrasto insomma a quello che si vive a San Biagio grazie poi allo spirito di accoglienza degli orionini di cui si è fatto interprete Don Antonio Ascenzo. Vediamo anche qui la testimonianza di Olga, una signora che ha viaggiato con la propria macchina con la figlia e il nipotino a bordo per tutti i 2.000 chilometri che separano la frontiera ucraina con l'Italia. È giunta nella nostra città ed ora viene assistita, viene ospitata con tutto il gruppo appunto a Villa San Biagio. Donne, emergenza e precarietà e le neomamme disoccupate. Un articolo questo pubblicato sul Corriere Adriatico che riguarda un recente convegno organizzato dal Partito Democratico Online sul tema donne tra lavoro e nuovi diritti ed è emerso come la precarietà, il lavoro precario, il lavoro stagionale sia un po' la caratteristica del lavoro femminile. Un lavoro piuttosto pesante ma con poca redditività e certo non risolve la situazione delle famiglie. Sono dati allarmanti comunicati dalla sindacalista Silvia Cacioli che è una segretaria confederale della CGL appunto al convegno del Partito Democratico. In questo articolo vi sono dei dati che rilevano in maniera realistica la situazione del lavoro femminile. Sulla Val Cesano siamo a Marotta dove si tiene un'iniziativa importante per quanto riguarda l'attrazione turistica. Il vino viene considerato volano del turismo tra degustazioni e master. A Marotta si tiene il Tastit. L'assessore Carloni, l'assessore regionale Carloni lancia il Made in Marche SP e Partner. L'enogastronomia aggancia il treno del mercato associato al vino. Ci sono molti degli estimatori appunto del buon vino e il nostro territorio ne produce in ottima qualità. L'appuntamento è spalmato su tre giorni dal 20 al 22 marzo e vedrà il Gusto Lab di Marotta in via 25 Aprile come location dedicata alle degustazioni, esposizioni dei migliori vini, birre e spirits accuratamente selezionati. Quindi un appuntamento non solo per appassionati ma anche per gli operatori del turismo. A Senigallia per i ristoranti con vista sulla rotonda, il luogo topico pronto di Senigallia, la scelta di restare aperti tutti i giorni. Durante la settimana ora molti lavorano solo su prenotazione, cicconi massi per tanti è una scelta obbligata e ovviamente anche questi lavorano in un clima di crisi che non è certo facile da sostenere e da superare. Ed eccole le pagine che riguardano la grande vittoria che ha visto Pesaro prevalere su nove candidati al concorso della Capitale Italiana della Cultura. Noi vincenti grazie a una terra virtuosa. È una delle dichiarazioni che sono state emesse ieri, subito dopo la vittoria, una esultanza che ha coinvolto non solo l'amministrazione comunale, il sindaco Ricci, il vice sindaco Daniele Vimini, che è stato un po' l'interprete, il protagonista di questo progetto, ma anche le associazioni, in modo particolare le associazioni turistiche, l'associazione degli albergatori che da questo evento trarranno, si spera, almeno un vantaggio, una molla per risalire la china dopo tanti problemi che hanno oberato la loro attività. Pesaro dunque sarà Capitale Italiana della Cultura per il 2024. La decisione è stata presa dalla Commissione Ministeriale, presieduta dal Ministro Franceschini alla unanimità. E Pesaro ha battuto Ascoli, Chioggia, Grosseto, Mesagne, Sestri Levante, Siracusa, Pestum con l'Alto Cilento, Viareggio e Vicenza. Quindi sono località piuttosto importanti, per esempio Vicenza, Pestum, Siracusa, Grosseto, Chioggia, sono località che hanno un bagaglio culturale di notevole importanza. Fano però, Fano, Pesaro, Urbino, con le loro risorse, la musica, la romanità, il rinascimento, sono stati elementi decisivi che hanno fatto privilegiare il nostro territorio per questo importante riconoscimento. In precedenza hanno vinto Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna, Siena, Mantua, Pistoia, Palermo, Parma, Procida e l'ultimo Bergamo e Brescia, che è appunto la capitale di quest'anno. Il progetto vincente si intitola La natura della cultura. Coinvolge, come già abbiamo detto, l'intera provincia con 50 comuni e ha un budget di 6 milioni. Il concorso comunque permette a Pesaro di vincere un budget di un milione messo a concorso appunto dal Ministero. Ed ora facciamo festa, poi due anni di lavoro, il sindaco ha colto da una ovazione nel giardino del Gra, dedico il successo, ha detto, alla città di Kharkiv, una delle città ucraine martiri, e poi a Daniele Tagliolini, insomma è stato il presidente della provincia ed è deceduto nei giorni scorsi. In queste due pagine abbiamo la sintesi del progetto articolata in sei punti, arte, ambiente e tecnologia, il domani e ora, afferma il titolista. E passiamo ad altri argomenti. Vediamo come a livello regionale si valuta la candidatura dell'imprenditrice Fabiana per quanto riguarda la presidenza della Confindustria Marche. Respiro internazionale era ora la doppia soddisfazione di Walter Scavolini. Ci speravo come cittadino e imprenditore la figlia Fabiana tra i testimonial dell'audizione e la cultura è una molla per le aziende. Si parla in questo caso sempre della candidatura di Pesaro al concorso appunto di Capitale della Cultura. Vediamo ancora, ecco questa è la pagina dedicata alla Confindustria. Gli ex presidenti di Confindustria, Pilotti, adesso sia aggregazione. Si tratta di Annarita Pilotti, futura presidente della Confindustria della Regione Marche. Abbiamo delle considerazioni degli ex presidenti in queste due pagine. Si tratta di Adolfo Guzzini che è stato presidente dal 98 al 2002, Paolo Andreani dal 2009 al 2012 e poi ancora Nando Ottavi dal 2012 al 2015 e quindi Bruno Bucciarelli dal 2015 al 2018. Gli ex presidenti di Confindustria, Pilotti, adesso sia aggregazione. Sappiamo le polemiche che hanno traversato la Confindustria per quanto riguarda questa aggregazione regionale. Quindi si cerca di trovare unità di intenti. La ricostruzione a rischio preziario da aggiornare. È l'assessore Castelli di Pesaro. I rincari potrebbero compromettere le opere del cratere. Il documento regionale è già pronto. Perché non utilizzare intanto questo, afferma Guido Castelli che è assessore alla ricostruzione. E poi vediamo come il Partito Democratico si prepari alle primarie per le prossime elezioni. Curti ha lo scoperto. Allora torno in pista se si fanno le primarie. L'ex sindaco di Force aveva accettato il passo indietro per la Manzi a nome della unità. Sono pronto a mantenere la parola, ma con altre candidature ognuno è libero di decidere per sé. Ed ora lasciamo un po' le cronache regionali per passare a quelle più spiccatamente pesaresi. Parliamo di un lutto. Si tratta della morte di Jörg Müller. Era l'ingegnere della Morbidelli. Fu lo storico progettista della Morbidelli ed è deceduto in condizioni non chiare, misteriose. Un malore nella notte è stato trovato seminudo all'esterno fuori dalla moglie. Ed ora si tratta di capire quali sono state le cause della morte e perché appunto il suo stato con dei vestiti insomma a metà. Una indagine che viene avviata. Nella notte tra martedì e mercoledì l'uomo si è alzato dal letto della sua abitazione, di case bruciate e probabilmente in stato confusionale è uscito all'esterno. Poi quello che è accaduto non si sa. Si sa soltanto che è stato trovato esanime e riverso sul pavimento e non c'è stato nulla da fare per rianimarlo. Batte forte il grande cuore di Cagli. Nessun profugo verrà lasciato solo. Una rete solidale in questa località è stata attivata per l'accoglienza mentre la piccola comunità ucraina sta crescendo. Finora sono 31 coloro che sono giunti da questo paese tormentato e che hanno trovato rifugio a Cagli. Per metà sono minori ma oggi probabilmente saranno anche di più, saranno 34 perché una giovane mamma e i suoi due figli dovrebbero raggiungere appunto già quelli che già sono ospitati durante la notte. Cagli segue un preciso protocollo dove protagonisti sono lo sportello immigrazione e lo sportello di prima accoglienza. Quindi si è già costituito un apparato per l'accoglienza di queste persone. A Urbino c'è un incentivo alla lotta al degrado e ai vandalismi. Vengono attuati i progetti nelle scuole e viene implementato l'uso delle telecamere. Il vice sindaco Guidi e il dirigente del commissariato Pieneschi ci sono messi insieme per sensibilizzare e prevenire. E' certo che il vandalismo in una città d'arte e cultura come Urbino è un male da estirpare e il male lo si estirpa soltanto facendo un'opera di aggregazione, di sensibilizzazione sia all'interno delle famiglie che all'interno delle scuole perché poi le telecamere magari colpiscono un episodio sindaco singolo ma non risolvono nella sua globalità il problema. Quindi educazione, sensibilizzazione all'interno delle famiglie e nelle scuole. Ambera condanna a cinque anni di carcere. Il suo messaggio fu una trappola letale. Ismaele legato a una croce è ucciso. Anche la ragazza ritenuta responsabile, udienza a porte chiuse. Sintetizzato in questo articolo quello che è accaduto nella sede del Tribunale di Urbino nella giornata di ieri. Ambera Sali, a testa bassa come sempre, ha ascoltato la sentenza che la condanna a cinque anni di reclusione per aver indotto Ismaele a recarsi a quell'appuntamento che gli sarebbe stato fatale. Ricordiamo tutti questo triste e drammatico episodio che si è svolto alcuni anni fa e che ora dopo la condanna dei due omicidi all'ergastolo vede condannata anche Ambera, la ragazza di cui si era innamorato Ismaele. Per la mamma di Ismaele la condanna è troppo lieve e Ambera, secondo lei, meritava di più una condanna più grave. E poi lasciamo il Corriere Adriatico per aprire il resto del Carlino. Rapidamente vediamo la sintesi degli articoli. L'articolo principale è dedicato all'atto vandalico che è stato compiuto nel sentiero dell'Arzilla a Gimarra. Arzilla scatta la denuncia contro i gnoti da parte di Aset e vediamo qui una traccia del fuoco che ancora arde nello sbarramento delle cantiere. 9 milioni e 710 mila euro in arrivo per l'ex Carducci e poi vediamo quello che è accaduto ieri in piazza Marcolini dove si sta valutando, verificando lo stato delle radici dei lecci che decorano la piazza per verificare, per capire se devono essere abbattuti o meno. Ebbene durante gli scavi è venuta alla luce una vecchia cisterna. Si tratta di una costruzione degli inizi del Novecento, è stata già avvisata la soprintendenza ed è stato chiesto l'aiuto di Aset e poi si dovrà decidere che cosa fare. Probabilmente si ricoprirà il tutto. A Urbino si piange la morte di Walter Piacesi, l'incisore dell'intimità. Aveva 93 anni. Il funerale si è svolto ieri nella sua Ferminiano. Umberto Piersanti, il poeta Urbinate, dice il suo sguardo era ricco di umanità. Con me collaborò molto. Poi vediamo anche l'articolo che riguarda la lotta agli imbrattatori dei monumenti. A Urbino, Comune e Polizia di Stato intensificano le attività di prevenzione e repressione per tutelare il sito Unesco. Ricordiamo che Urbino è un sito Unesco. Cultura, Pesaro capitale. Sono evidenti, grossi, i cubitali, diciamo, i titoli che evidenziano questo grande risultato ottenuto dalla città di Pesaro. Ore 11.30. È stato diramato il risponso. È fatta ed esplode la festa. Ricci, la mia, dedica a Carcheve, la città ucraina sotto le bombe. Vittoria di squadra, Vimini, il regista dell'operazione. Ed ora a testa bassa verso il 2004, perché dopo il progetto occorre realizzare quanto proposto. E vediamo ancora come si festeggia a Pesaro. Sabato verrà organizzata una maxifesta alla pescheria. Suonerà la bambina prodigio ucraina. Ieri sera brindisi applausi a Palazzo Gradari. Annunciato l'evento di dopodomani per celebrare la vittoria. Protagonista sarà Diana, una bambina di nove anni, scappata da Carchiv con la famiglia e ospitata dal conservatorio. Vediamo come poi verrà aiutata anche a frequentare la scuola. Omicidio Lulli. Ambera condannata a cinque anni. L'SMS a Ismaele fu una trappola mortale. Diede appuntamento a questo ragazzo di 17 anni che sul posto trovò i suoi aguzzini, appunto, che lo uccisero. Mamma Deborah dà ancora battaglia. Lei è la più colpevole di tutti. Mamma Deborah e Deborah Lulli, la mamma, appunto, di Ismaele. Trovato morto il mitico ingegnere Müller. È stato negli anni Ottanta il progettista di successo della Morbidelli. L'uomo è uscito di casa a torsonudo a luna di notte ed è caduto, probabilmente colto da un malore. A questo punto possiamo vedere qualche notizia di sport. Vediamo come la VIS si appresta ad incontrare il Modena. I biglietti vanno a ruba. I posti degli ospiti sono esauriti. Acquistati in poche ore 507 tagliandi dagli emigliani, quali vogliono sorreggere la propria squadra. Oggi e domani, prevendita allo stadio. Una giornata bianco-rossa, abbonamenti non validi, quindi occorre pagare il biglietto. Per Fano, invece, è una sosta fondamentale. Variale, Herrera e Casolla sono ai box. Ieri sono ripresi degli allenamenti nel campo della trave per l'Alma. In vista del prossimo match di campionato fissato per domenica 27 marzo, Mister Catalano ha concesso alla truppa un giorno di riposo in più in questo fine settimana. Insomma, si cercherà di carburare le forze per sostenere questo incontro. Adesso ogni incontro è decisivo per la salvezza. Ed era l'ultima notizia. Massimo Foghetti a questo punto vi saluta, vi dà appuntamento a domani alle ore 7 e per le notizie del giorno alle ore 20 e 30 all'Occhio alla Notizia, il Tg di Fano TV. E mi raccomando, se vedete lo schermo nero, girate, risintonizzate i canali al canale 19. E questo è tutto, ancora arrivederci e buona giornata. Grazie a tutti.